Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui perché c'è una nuova modalità della skywars Ok l'abbiamo provata l'altra settimana, vi è piaciuta, mi è piaciuta e quindi vi porto la mega skywars di ipixel E' una cosa nuova da quello che ho capito quindi spero che lo sia davvero Kit selector, zio io l'avevo già selezionato Ok le gabbie si aprono in quanto in 10 secondi Ah spero che noi siamo tipo un team no? Siamo un team noi? Spero di sì Spero sì che ci siano vari team, esatto se non sbaglio ci sono tutti team e noi siamo un team Perfetto Allora prendiamo solo un po' di legno qua c'è una roba prendiamo le cose Ehm, degenerazione, chicken, uova, starnuto, perfetto, perfetto Qua c'è subito del ferro, lo prendo, ok, già mancano giocatori, perfetto Ci sono altre cose qui, sta laghecchiando Uè amico, cazzo fai, no no, cazzo mi colpisci, no 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 no, perfetto che non c'è da una caduta In teoria, non dovrebbe esserci da una caduta E la una, ho subito un piccone di diamante zio, ok, 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 lei ha tirato le palle Allora, ho del ferro, lo voglio cuocere per farmi una spada, non so se ti dispiace Ecco, lo so che sei un team ma per favore non me lo levare Già che c'hai il piccone di diamante sai che più o meno fa più danno della mia spada Eventualmente, qua c'è anche l'altro ferro, lo prendo molto volentieri Mi piacerebbe i diamanti, però, insomma Comunque, come avete visto se... pezzo di merda Vai via Coglione di merda Sto stronzo infame mi fotte il ferro Eh, mo rimango qua, vediamo se me lo fotte Stronze, cazzo è? E' un bug vero? Spero sia un bug Raga, non vorrei dire ma mi sa che ci stanno colpendo in alto C'è qualcuno? Avevamo già fatto un ponte verso di qua Ma quella è una spada di diamante Che pazzo maniaco che ha voluto andare di là Oh mio dio Oh mio dio Ok, là c'è un diamante Ah, ma qua ci sono diamanti allora Ok, interessante Interessante, intanto dammi un po' di legno Non so perché sto prendendo il legno Sono nervoso, ok? Sono un po' nervoso Calma un po' Abbiamo pochi cuori Tu, amico mio Ti potrebbe servire una pozione di rigenerazione? No, ok, sta recuperando vita piano piano Il problema è che lui sta arrivando Quindi, amico mio Prenditi sta pozione Lo faccio per te Perché sono tuo amico Che dici se faccio una cosa? Aaaaaaah Scappa Perfetto Abbiamo capito un po' come funziona La sky wars Di Di i pixel Quella gigante Con cento giocatori Aha Cambiamo minigioco No, che bellissima sta cosa L'angelo della morte No, che fia da tutti È una figata assurda Bellissimo Cos'è questa? Tipo una lotteria Vediamo cosa mi da Cloud cage Cos'è? Ehm Ok Non so nemmeno cosa possa essere Fotte sega, fotte sega Allora Andiamo a fare qualcosa In cui sono un po' più bravo Teoricamente Ad esempio c'è un'altra modalità nuova Che si chiama pixel painters E da quello che ho capito Dovrebbe essere un qualche tipo Di Ehm Paint Più o meno Left click select Right click paint Ok Perfetto Se non sbaglio E' quella dove bisogna indovinare No Ah nooo Bisogna disegnare un alieno Devo Pencil Sono tutte pencil queste Ok devo fare un alieno Ehm Come si scrive? Ok Un alieno Ehm Selezioniamo il colore blu Così facciamo le corna Ok Ok Mi sembra una buona cosa Una volta selezionate Fatte le corna Ovviamente Per fare un alieno Abbiamo bisogno degli occhi rossi Perchè Quale alieno Non ha gli occhi rossi Giganti Tra l'altro Guarda eh Ok Guarda qui Purtroppo abbiamo solo 3 minuti Per fare questo Ok ok Poi ovviamente Ovviamente Hanno un corpo Tutti I cosi hanno un corpo Selezioniamo una cosa Un po' più pesante Esatto vai Ehm Radius Ma facciamo un bel radiusone Di quelli proprio giganti Ah Va che bel corpo Che ha Questo alieno Si Proprio Ok Cosa cambia da ognuna Di queste cose Non ne ho la più minima idea Ok ma bisogna aggiungere Un po' di dettaglio Quindi prendiamo un verde Un po' più chiaro E facciamo tipo Le braccia E poi Le palle L'ombelico L'ombelico E i capezzoli Perché anche Gli amici alieni Hanno bisogno Dei capezzoli Quindi un capezzolino lì E un capezzolino lì Molto bene Cosa sembra Non ne ho la più minima idea Però prendiamo anche L'azzurro Per completare un attimo La testa Perché che alieno è Senza testa completata Poi prendiamo un bel colore scuro Facciamo la bocca Guarda un bel sorrisone Ehm Contento lui Contento lui E poi per concludere Prendiamo il colore nero Là in fondo Scriviamo A Li E A capo N Mi sembra giusto Cioè questo Raga Capolavoro Capolavoro Troppo forte Troppo forte Due minuti Ma non mi servono due minuti Zio Cioè possiamo anche proprio Ho vinto io Ho vinto Ma mi sembra tanto tipo di essere nello studio di Art Attack Ho sbaglio Tutti i tubetti qua di tempera così Mamma mia Art Attack è una figata da piccoli Compravo i tubetti di tempera solo per Credere un attimo Giovanni Mucciaccia Però vabbè Non si può avere tutto nella vita Abbiamo un minuto Che ne dici? Proviamo a scrivere meglio alien Prendiamo la gomma vai Prendiamo la gomma Cancelliamo qua Permesso Un attimo devo scrivere meglio alien Non per niente Un minuto Un minuto Allora Scriviamolo qua in alto vai A A Più o meno Sembra più un triangolo Al I E N Mi sembra giusto Applausi 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 per Surri 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 Ok lo so che sembra più una formica che un alieno Però Dai almeno è coccoloso Almeno Guarda ha una faccia nella pancia Guarda gli occhi La bocca Mi serve il naso dici Ok prendiamo un colore un po' più scudetto Veloce Veloce Perfetto Raga ditemi se non è proprio l'alien per definizione Ora voglio vedere gli altri cosa hanno fatto Tra l'altro Dai su 4 3 2 raga andiamo a vincere Andiamo a vincere Ok click on your favorite drawing Ok dov'è che vedo il mio Cosa preferito Ok Ok Allora qual è il mio preferito di questi quattro Questo no Questo no beh devo dire che questo è bellino Però Si va bene Voto quello Voto quello Voto quello vabbè ma solo perchè E' bellino E poi qua Mnnm Cos'è questo questo è Pepe E' Pepe Pepe quello lì Guarda quanti mi piace sta venendo Pepe Pepe quello là di che spavano sempre nelle chat di twitch troppo forte pepe ok ma non c'è il mio vabbè voto questo è quella di man in black vabbè no voto questo dai bellino dai sembra un po' un alienetto ok 3 2 1 dai mostra anche il mio ah vota il mio ti prego dai il mio è più bello di questi dai non dirmi però dai il mio ho già preso un voto quello è una cosa di picasso non votare le cose di picasso vota il mio solo un voto dai vota nooo quella è una mela il mio almeno è un bruco ecco vabbè ora vincerà questo io voto quello più bello io tra questo e questo e questo è quello di monster vai vota quello di monster ma siete ignoranti non capite niente di arte ah ecco ecco beh tra questo e questo vince quello però zio c'ha pure non per dire c'ha pure il punto esclamativo in testa grandi robe grandi robe questa è proprio è l'essenza dell'arta dell'arta dell'arte dell'arte push push 101 has won the game thank you very much for playing raga io volevo fare volevo finire a fare una roba di tnt ma quella facciamo sempre quindi io faccio un altro round di questo gioco perché mi sono divertito ma non sapevo che ora c'erano anche diverse lingue peccato che non ci sia l'italiano pezzi di merda ok vediamo qual è il tema il tema è attenzione car ok perfetto raga dobbiamo fare delle macchine le macchine le macchine hanno sempre le ruote nere ok no 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 cancela torna indietro ok facciamo così e così poi così e così ok ok abbiamo le ruote ragazzi abbiamo le ruote poi prendiamo beh tanto prendiamo il cosetto qua prendiamo un bel azzurro e facciamo il cielo perché no si anzi si poi prendiamo abbiamo una linea una linea di un bel colore grigiastro un grigio bello scuro perché deve segnare proprio la fine del coso ma non si facevano così le linee no no si vede che non torna indietro torna indietro zio perché ho fatto solo casino devo fare una linea dritta perfetto ora appena di nuovo quello e corriamo di grigio un po più chiaro no vedi che non capisce niente ok prendiamo questo qua a spruzzo un bel colore così ok quanto è lento prendiamo il pennarello pennarello bello grande ok colora tutto il cielo che ci piace a noi che ci piace ok ok poi bisogna fare il sole ragazzi bisogna fare il sole per un bel colore giallo no più giallo ok e facciamo un bel sole qua in alto va va che va che è bello il sole ok ora bisogna fare la correzza raga prendiamo la matita per la mattina prendiamo un bel colore rosso vivo che piace tanto quando si parla di macchine ok manca solo due minuti ok la facciamo diretta verso di qua e facciamo una cosa di questo tipo brum poi vum ce la voglio cattiva davanti no vedi vedi mi sembra una bella macchina che facciamo tipo solo a tre porte facciamo a tre porte ok questo è il finestrino questa è la maniglia ok sta funzionando più o meno facciamo un bel colore vivace la macchina ok di un bel ok coloriamola così come posso perché ho dei mezzi di fortuna vedi che bella la macchina ok perfetto mi sembra già una bella cosa poi prendiamo un azzurino perché questa deve essere la macchina di Mr. Bean proprio ok ma non la macchina di Mr. Bean quella che avete tutti no dei cartoni animati nel film quella verde e nera no questo è il modello 2016 cioè deve ancora uscire in anteprima ovviamente in anteprima solo su cani di studio al power mi sembra anche giusto manca un minuto dai finiamo la macchina veloce dobbiamo solo fare gli ultimi dettagli e ok ora scriviamo una cosa giusto per essere chiari voto non si capisce un cazzo vero ma quanto schifo fa aspetta 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 I beg ho solo 18 secondi beg you perfetto vote please I beg you è bellissima non dirmi di no è bellissima chi non la comprerebbe una macchina così chi ok vediamo gli altri cosa sono riusciti a fare ho i miei dubbi che sia dovuto fare qualcosa di bellino è dai ok effettivamente molto meglio della mia questa sembra davvero una vera macchina però voterò quel pick up dai la mia è più c'è è un primo piano la mia ci sta la mia c'è guarda quanto è bella la mia oh mio dio quanto è bella quella ma la mia è più bella nessuno che mi vota ho scritto ai beg you per favore ha vinto quella zi cosa vuoi te quella quella macchinina la di merda questa è davvero figa ragazzi non sono un artista non so fare niente io pensavo di essere bravo zio ha vinto questo qua cioè guarda guarda quante stelline prende come alimentari quando la messa ti va la stellina quando facevi i compiti poi vai alle superiori fai i compiti nessuno ti dice un cazzo non li fai tutti ti risultano cioè professori comunque palp fiction no palp flitlon va bene grazie per avermi umiliato anche in questo turno è stato bellissimo giocare con te ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione questo è stato un episodio un po particolare ho fatto con la prima sky wars mega che non sapevo neanche come funzionasse però in realtà funziona un po a team così un po particolare però nelle sky wars abbiamo realizzato che faccio un po chiare ma ok ok a parte quello abbiamo anche imparato che non so disegnare con minecraft magari in real life qualcosa riesco anche a fare però in minecraft particolarmente no io vi ringrazio tantissimo la visione con lasciare un piaccia se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale se non avete fatto e vi seguite su twitter e instagram facebook e ovunque voi vogliate ciao